A causa del sé, l'atman, tu sei collegato al mondo con il corpo. Il sé non è altro che sapere che tu sei. Medita su questo principio per mezzo del quale sai che tu sei e per mezzo del quale esperisci il mondo. Medita su questo sapere tu sei che è la coscienza. Ritirati in esso. Visitatore, il problema è che manca la concentrazione. Maharaj ignora la mente nello stesso modo in cui ignori la folla sulla strada. Di fatto, la mente è un principio dinamico universale, ma noi lo restringiamo ai limiti del corpo, e successivamente dipendiamo da esso. Da qui derivano tutti i problemi. Pensa all'acqua del lago Tansa. Quell'acqua appartiene a tutta Bombay. Possiamo forse affermare che una parte è tua e un'altra è mia. In modo simile, cerca di comprendere che il sé è universale e che tu l'hai condizionato confinandolo al corpo. È per questo motivo che ti trovi davanti a infiniti problemi. Anche questo sé è chiamato Ishvara, Dio, il principio universale. Se ti soffermi su questo, otterrai la pace che cerchi e un profondo sapere discenderà in te. Visitatore, ho provato a meditare su questo, ma la mente vaga qui e là. Se cerco di esserle indifferente, finisco per sentirmi esausto. Maharaj, ma non sei tu l'origine di qualsiasi processo? Visitatore, la radice di ogni cosa è la vita. Maharaj, sì, ma la forza vitale è universale, non è personalizzata. Una volta che tu comprendi questo, non hai più problemi. Visitatore, questo è vero, ma quando la mente vaga, io mi sento nei guai. A volte avverto che la vita è universale, ma in altri momenti diventa individualizzata. Come liberarsi di questo? Maharaj, questo è il modo convenzionale di parlare. L'acqua è universale, ma la usi quando ne sei in possesso. In modo simile, usa la mente per assecondare i tuoi bisogni e poi lascia che fluisca da sola, senza che tu interferisca o ti coinvolga. Proprio come il flusso di un fiume dal quale attingi acqua solo quando ne hai bisogno. Dal nulla, spontaneamente, si avverte il senso dell'essere. Questo è uno. Successivamente, quando il senso dell'essere conosce l'io sono, comincia la dualità. Dopo il sorgere della dualità, il senso dell'essere si identifica con la forma, e così via. In realtà, riferirsi al senso dell'essere come all'uno non è corretto. Infatti, dal momento che in questo stato prevale solo il senso dell'essere, dov'è la necessità di dire uno? Con l'apparire del senso dell'altro, dualità, uno e due appaiono simultaneamente. Per poter dire che qualcosa è, in primo luogo, devo esserci io. Se io non fossi presente, non potrei dire che c'è qualcosa. Il principio fondamentale è questo. Quindi, io devo essere presente prima che qualsiasi altra cosa sia. Questo io è l'essere che viene prima. Visitatore La vita è eterna. Questo significa che la vita è per sempre. Maharaj Sì, il potenziale vitale è sempre lì. Ma fino a quando un corpo forma non si rende disponibile, non può manifestarsi alcun senso della percezione. Quando il corpo muore, i sensi cessano di funzionare. Quindi, per quell'entità, né percezione né conoscenza del mondo possono accadere. È solo quando i sensi operano che si può percepire e conoscere il mondo. In un certo senso, l'assenza di funzioni sensoriali è una liberazione. Non è forse così? In questo momento, io sono vivo. I miei sensi e i miei riflessi reagiscono alle diverse situazioni. Se si trattasse dei sensi di un corpo morto, ovviamente non reagirebbero. Nell'universo manifesto è possibile che esista un universo percepibile solo quando nel corpo si attiva la capacità di percepire sensorialmente. Il punto principale è che, affinché un universo esista, deve esserci un osservatore che possegga organi sensoriali e debbono essere perfettamente funzionanti. La mente interpreta le percezioni sensoriali e giunge alla conclusione che l'universo esiste. Perciò, nel caso in cui l'apparato sensoriale e la mente dell'osservatore non funzionassero, l'universo dell'osservatore non esisterebbe. Visitatore Ma la vista, l'olfatto, l'udito, il tato, eccetera, appartengono al corpo e non al sé, all'atoman. Maharaj Senza Atoman, i sensi non possono funzionare. Esso risiede nell'essenza del corpo. Quando si riassorbe in sé, resta solo nirguna, l'assoluto non caratterizzato da caratteristiche qualitative. Visitatore Può l'atoman cambiare corpo? Maharaj L'atoman non possiede un corpo, quindi come può scambiarne uno con un altro? Al momento presume che io sono significhi solo il corpo. Visitatore In questo mondo fatto di materia, quando noi diciamo noi, indichiamo solo il corpo. Ma se le mie gambe venissero amputate, rimarrebbero separate da me. Quindi sento che io, in quanto tale, non sono il corpo. Maharaj Esattamente così. Visitatore Quindi l'atoman è qualcosa di diverso dal corpo. Maharaj L'atoman non è l'individuo. Questo deve essere compreso con chiarezza. L'atoman può avvertire il senso dell'essere solo attraverso un corpo che possegga un apparato sensoriale propriamente funzionante. Altrimenti l'atoman non può sentire se stesso. Visitatore Per comprendere questo devo meditare. Maharaj Sì, la meditazione è decisamente necessaria. Se puoi farlo con continuità va benissimo. Ma con tutto il da farsi quotidiano questo può essere difficile. La meditazione, praticata nelle prime ore della giornata, è efficace. È di grande aiuto. Ma va bene anche in qualsiasi momento libero. Coloro che sono animati da una grande motivazione possono meditare in qualsiasi momento. All'inizio un praticante dovrebbe sedersi in un angolo tranquillo con tutto il tempo e la rilassatezza a disposizione. Una volta raggiunta una condizione più stabile egli può meditare ovunque e in qualsiasi momento. Immaginiamo che quel praticante molto serio e avanzato nella sua ricerca si è da qui con noi in meditazione. Egli sarebbe pienamente assorbito in se stesso. La sua attenzione sarebbe concentrata solo sull'attenzione stessa con il risultato che non sarebbe cosciente di ciò che gli accade attorno. Quando siedi in meditazione profonda il tuo senso dell'essere è totalmente assorbito nel sapere io sono. In questo stato intuitivamente ti si rivelerebbe come e perché il tuo senso dell'io sono è emerso. Visitatore Tutto questo per mezzo del senso dell'io sono? Maharaj Coscienza essere senso dell'essere senso dell'io sono sono la stessa cosa in te e vengono prima dell'emanazione della parola. Questo è un punto delicato quindi cerca di comprenderlo con chiarezza. quando io dico non ero prima del concepimento quello che intendo dire è che non ero come questo io sono attuale. Con il manifestarsi di un corpo il senso dell'io sono viene imposto sull'io che precede. Nella meditazione questo senso dell'io sono stesso indicherà come e perché si è manifestato. devi essere posseduto dal bisogno di scoprire che cosa sia questo senso dell'io sono così come non ti dai pace se non scopri la provenienza di un odore. Se avverti un affrore devi scoprire da dove viene e se scopri che si tratta del corpo di un animale in decomposizione dovrai rimuovere la carogna se vorrai liberarti di quel puzzo. Similmente se un piacevole profumo viene sospinto nella tua direzione vorrai trovarne l'origine. Devi andare alla fonte di questo senso dell'io sono e scoprirne il come e il perché. Visitatore come si fa a perseguirlo? Maharaj Il principio che fece sorgere questo impalpabile senso dell'io sono è chiamato Bhagavan Vasudeva il signore che dona fragranza colui che riceve tale fragranza desidera trattenerla a ogni costo. Visitatore come si entra in quello stato? Maharaj Tu dalla dimensione del corpo-mente sei incapace di comprenderlo ma quel principio scoprirà se stesso. Qualcuno che tu puoi chiamare Bhagavan o Vital o Dio è così infatuato di questa fragranza che la vuole trattenere perpetuandola? Visitatore Un giorno tutti i miei sforzi porteranno a compimento questa ricerca e spontaneamente e spontaneamente lo troverò. Maharaj il suo significato per te si vanificherà nel momento in cui egli sarà scoperto e tu sarai liberato da quell'infatuazione con Vasudeva. Visitatore In altre parole penso che quando tu lo avverti costantemente non vai più a cercarlo. Una volta che realizzi il sé questo automaticamente ti si manifesterà cosicché non ci sarà più bisogno per te da andare a cercarlo. Una volta che questa realtà viene portata a compimento se ne potrà fare qualunque cosa. Maharaj In quello stato sarai oltre qualsiasi bisogno o desiderio. Non ti servirà più nulla. Non rimarrà nessun desiderio perché saranno tutti esauditi. Visitatore Non volevo dire che dovrei farne uso per i miei bisogni in questo mondo. Intendevo dire che una volta realizzata quella dimensione diventerei una sola cosa con essa. Maharaj Nella realtà tu non sei mai stato separato da essa quindi dov'è che si pone la necessità di fondersi con quella realtà. Visitatore È bello sapere che non ne sono mai stato separato ma nel mio stato presente percepisco me stesso solo come corpo. Maharaj Questa è la tua idea. Tu sei il tuo corpo ed esso ti sta deludendo. Visitatore Allora sarò libero Maharaj recitando dei versi di Guru Nanak Oh mente che cosa cerchi dentro e fuori è solo uno è l'idea che ti fa distinguere tra esterno e interno. Una volta che il vaso chiamato Nanak verrà rotto dall'aver respinto il pensiero che io sono il corpo dove sarà il dentro e dove sarà il fuori. È solo l'io che prevale ovunque. Come il profumo di un fiore come un'immagine nello specchio questo senso dell'io sono viene avvertito nel corpo. Perciò liberati del tuo nome Nanak e anche dalla tua identificazione con il corpo. Risiedi nel senso dell'io sono e sarai liberato. Visitatore Quando cerco di rintracciare il sé mi sembra che si generino ancora più sé. Maharaj Ma chi è che osserva così tanti sé? Un pensiero produce altri pensieri. Chi osserva il primo pensiero? Visitatore È quello che desidero sapere. Maharaj Solo tu sei l'osservatore del primo pensiero. Se il conoscitore del primo pensiero non fosse lì chi mai osserverebbe gli altri pensieri? Visitatore Se non c'è il conoscitore allora non ci sono pensieri. Maharaj Se tu capisci questo è tutto finito. Puoi andare. Spiegare e propagare dei concetti è semplice ma liberarsi del pensiero è difficile e raro. Visitatore Come posso cancellare i pensieri e i nuovi concetti? Se tutti i pensieri e tutti i concetti fossero cancellati diventerei forse tutt'uno con quello? Maharaj Non cercare di diventare qualcosa. Non fare nulla. senza pensare a nessuna delle tue parole rimani quieto. Una volta che una parola germoglia essa genera un significato a quel punto tu ci speccoli sopra cominci a seguire i significati delle tue parole e affermi che sei alla ricerca di te stesso. Perciò risvegliati a quello stato che precede l'origine delle parole la tua base spirituale è pronta ecco perché ascolti questi discorsi e cerchi di comprenderli altri discutono con me facendo valere i loro concetti e le loro idee ne sono talmente pieni che non sono nemmeno in grado di ascoltare quello che dico molti giungono qui supponendo di essere colti e di sapere molto ma si tratta semplicemente di ignoranti ciò nonostante io li considero solo come coscienza tutte le tue identità nella dimensione corpo-mente sono cambiate continuamente nessuna ti è stata fedele perché allora sei attratto da ognuna di queste identità e affermi sono così oppure sono come quello visitatore questo accade è solo nella dimensione mentale in alcuni momenti io penso d'essere così in altri penso d'essere come quello Maharaj chi a parte te osserva quei momenti tu ne sei il testimone quale che sia la cosa percepita e vista dentro o fuori di te tu non sei quello visitatore sto cercando di comprendere Maharaj nella meditazione potresti convincerti di essere Guru Nanak così come alcuni nelle loro meditazioni sono convinti di essere Shri Krishna nessuna di queste identità ha stabilità alcuna l'unica dimensione stabile è quella dell'osservatore di queste identità e tu solo sei l'osservatore l'eterno prendi l'esempio di un attore che recita il ruolo del re così splendidamente da ricevere molte lodi ma egli non è il re allo stesso modo tu non sei Guru Nanak tu sei l'osservatore qualsiasi cosa tu veda e percepisca fa tutto parte del gioco di Maya il principio illusorio attualmente tu ti identifichi con il tuo corpo e con la tua mente perciò negli stadi iniziali della tua pratica spirituale dovresti negare questa identità facendo tuo il fatto che il principio io sono è il soffio vitale e la coscienza e non il corpo e la mente quando tu ti rendi conto che non sei né il corpo né la mente rimani indifferente a qualsiasi movimento mentale in quello stato sei la dinamica coscienza universale dovresti risiedere completamente in questo stato il piacere il dolore e le miserie sono avvertite fino a quando l'identificazione con il corpo e con la mente vengono perpetuate immagina che una nave affondi nell'oceano con migliaia di passeggeri a bordo possono forse le loro identità sopravvivere alla calamità in assenza dei loro corpi e delle loro menti inoltre possono forse le vittime avere un'idea del loro stato dopo la tragedia quando i loro corpi sono totalmente svaniti in queste circostanze anche i loro parenti e amici non possono immaginare lo stato dei loro sfortunati cari per determinare un'identità i requisiti sono la presenza di un corpo del respiro e dell'essere visitatore la compassione il perdono la pace e l'attaccamento sono relativi alla dimensione dell'esistenza umana è corretto quello che sto dicendo Maharaj queste qualità hanno significato solo se l'essere è presente come risultato del funzionamento di un corpo e del respiro quando questi tre principi funzionano correttamente tutto è lì altrimenti non può esserci nulla spiritualità significa risiedere nel sé quando discuti o pensi ad argomenti che hanno a che fare con il discernimento o con la spiritualità te ne occupi oggettivamente e in modo frammentario mentre io lo faccio soggettivamente e in modo completo riferendomi al principio che comprende tutto il sé comprendi il sé sì il sé fino a quando il tuo corpo il tuo respiro e l'essere sono presenti tu sai che tu sei quando il respiro non c'è più il corpo muore e l'essere si estingue questo processo viene appunto definito morte uno che è morto non può conoscere più nulla un morto non sa che egli è o che egli era quindi non esiste alcuna registrazione dell'esistenza di qualcuno che è morto vai alla radice del tuo essere in questo processo l'essere sarà trasceso e solo il tu ultimo rimarrà senza la conoscenza che tu sei questo stato ultimo è conosciuto come vishramti che significa completo riposo rilassamento totale assoluta quiete visitatore come si fa ad esperire lo stato più alto maharaj non si tratta di esperire tu sei quello stato semplicemente visitatore e tutte le esperienze derivano dai sensi maharaj sì ma tu lo sperimentatore ultimo l'eccelso non sei la semplice somma delle esperienze al risveglio tu sai che tu sei questa è l'essenza del tuo sapere prima di questo sapere qualunque cosa tu sei non è il tuo sapere visitatore ha forse tutto questo a che vedere con l'assoluto maharaj esistono molti titoli e attributi ma prima di tutti questi tu sei visitatore noi otteniamo la realizzazione maharaj queste sono solo idee lo stato assoluto in ogni caso è oltre la possibilità ad essere descritto oltre le parole da un concetto ne nascono molti altri e tutto procede all'interno e per mezzo di questi concetti in questo modo si immagazzinano gran quantità di idee ma quando il concetto che dà origine a tutto ciò viene abolito a che serve generarne degli altri visitatore questo io non viene forse esagerato maharaj quanti anni hai visitatore ho 61 anni maharaj tornando indietro nel tempo a quel giorno precedente a questi 61 anni la durata della tua vita sapevi forse che saresti nato visitatore ovviamente no non potevo avere alcuna idea che sarei nato prima della mia nascita maharaj essendo nato ti sei mai chiesto perché sei nato prima della nascita questo conoscere il senso dell'io sono non esisteva visitatore non so quando sono nato e tantomeno quando morirò maharaj ma in tutti questi giorni perché non te lo sei mai chiesto ora che provi il sapere io sono come ci sei arrivato ammettiamo pure che tu sia nato senza saperlo ma così come un uomo che al risveglio scopre di avere un grosso foruncolo si chiede perché si sia formato così anche tu dovresti chiederti cos'eri prima di conoscere l'io sono visitatore in realtà ho cercato di scoprirlo maharaj con chi hai compiuto questa ricerca quale risposta hai ottenuto visitatore non sono pervenuto ad alcuna risposta maharaj il come e il perché di questo sapere io sono ecco ciò che devi sapere come è comparso questo conoscere io sono dallo stato di non conoscenza dalla non conoscenza è apparso questo senso del sapere come da nulla è comparso questo senso dell'io sono come prima della tua nascita hai mai esperito questo senso dell'io sono visitatore probabilmente no maharaj perché dici probabilmente visitatore sicuramente no raccogliere informazioni circa lo stato di non conoscenza è un'operazione futile maharaj perché mai ti attacchi a questo sapere ora quando dovrai per certo morire prima della nascita non sapevi di essere morirai allora perché ti preoccupi di concetti come il paradiso l'inferno la virtù e il peccato ti curerai di volgere lo sguardo e osservare ora che hai sentito tutti questi discorsi visitatore a volte lo faccio maharaj cosa ne ricavi alla fine devi arrivare alla conclusione che non esiste una cosa come me e mio osserva almeno il tuo inizio che cos'è quell'istintivo bisogno che cos'è che è nato tu non ti preoccupi di questo non possiedi questa conoscenza perché non ne hai l'urgenza se tu provassi un profondo bisogno ne sentissi l'urgenza allora cadrebbe l'illuminazione fino a quando non ci sarà questa condizione tu compierai innumerevoli sforzi mentre qualcun altro ne godrà come un cieco che lavora alla macina mentre un cane si mangia tutta la farina quando ho gratificato il senso dell'io sono comprendendolo solo allora sono venuto a conoscere questo senso dell'io sono e in quel processo ho anche scoperto che io l'assoluto non sono quell'io sono rimani fermo in un posto dopo aver raccolto tutto il sapere contemplalo in solitudine stabilizzandoti nell'essere raccogli tutto l'amore che era sparso e disseminato all'esterno tu risiedi in quella conoscenza io sono qualunque cosa tu sei nel corpo rappresenta solo amore questo amore lavora raccoglie cibo mangia digerisce e acquisisce conoscenza tu sei è l'amore e si esprime attraverso il soffio vitale è proprio così le attività continuano perché c'è il respiro così come il corpo ha un numero preciso di arti con i quali compie le attività quotidiane allo stesso modo il sapere tu sei possiede il soffio vitale come arto per il compimento d'azioni non si tratta di amare gli altri ma di conoscere direttamente che cosa tu sei quell'amore si prende cura di te è il tuo nutrimento la tua motivazione è forza energizzante porta la tua attenzione lì e concentrala su quel punto il suo movimento è indicato dal respiro è la forza vitale la sensazione tangibile della sua manifestazione è il sapere che tu sei questo amore è l'amore universale non diretto su alcuna persona o cosa in particolare è molto simile allo spazio lo spazio non dice ad essere esclusivamente per questo o per quello non fa l'amore privatamente con qualcuno quell'amore è manifesto è universale tutti i guai cominciano col tuo identificarti con il corpo l'amore originale è l'amore d'essere solo successivamente puoi pensare di amare gli altri perché ti affatichi per essere semplicemente perché ami l'essere l'ostacolo maggiore è l'identificazione con il corpo mente comprendi che non puoi diventare Dio ma che sei Dio originariamente tu sei divino ma sei diventato qualcosa che tu non sei dovresti comprendere che la tua destinazione è il tuo stesso se l'io sono si tratta della stessa fonte di ogni cosa quell'io sono è essere realizzati visitatore quella è la destinazione ma come si fa ad arrivarci maharaj sei deragliato dalla ricerca a causa del corpo sei precipitato dall'origine divina attaccandoti al corpo siccome tu sei la coscienza è prima che tu dica io sono tu sei già visitatore sono d'accordo maharaj ora tu sai che tu sei sì quello non ti dirò ciò che viene detto nelle scritture per quanto sofisticate possono essere io ti dico semplicemente che tu sei se ti piacciono i miei discorsi puoi venire se non ti piacciono allora tieniti lontano attualmente puoi credere ed essere una persona insignificante che non è all'altezza dall'intelligenza alimitata ma nella realtà non è così tu sei molto antico sei infinito eterno questa sensazione del senso dell'io sono è un po' come un annuncio pubblicitario indica lo stato eterno io sono la parola della sensazione dell'io sono che tu avverti interiormente non è eterna mentre tu sei eterno e antico visitatore come faccio a comprendere che sono eterno Maharaj ciò non può essere compreso nel modo usuale per mezzo dell'intelletto è uno stato che viene realizzato spontaneamente quando sei nello stato di senso dell'io sono tu confluisci nello stato eterno ora tu sai di essere e di essere seduto come hai sviluppato questa convinzione visitatore io so che sto sedendo qui Maharaj allo stesso modo devi sviluppare la convinzione di essere l'assoluto questa è la cosa più importante devi concentrare tutta la tua attenzione solo su questo punto prima dell'apparire dell'essere o del conoscere io l'assoluto sono già lì per l'eternità chi è che raccoglierà tutta l'attenzione su questo punto chi è che sa come farlo colui che raccoglie l'attenzione precede l'attenzione nella mente come puoi meditare in quella che chiami meditazione hai bisogno di un oggetto chi è che osserva la meditazione chi è che pratica la meditazione il processo necessita della presenza di qualcuno così come di un oggetto non è forse così prima di qualsiasi altra cosa il meditante deve essere presente ora lascialo essere senza alcun oggetto nella vera meditazione il meditante è solo senza alcun oggetto su cui meditare precedentemente allo stato di veglia io o l'assoluto è per sempre al risveglio quell'io sono scende su di me e solo dopo tutti gli altri accadimenti e tutte le altre cose prendono forma nella mente di nuovo io l'assoluto devo essere prima dello stato di veglia fermati su questo punto radicati in questo devi stabilirti nella tua presente vera natura io sono liberati di tutto il resto non dare attenzione a niente l'intero processo è quello di essere nella tua origine al momento qual è la tua origine io sono afferra saldamente questo senso dell'io sono e rimani lì devi realizzare il tuo vero sé devi raggiungere il confine tra io sono e non io sono immagina che non ti si manifesti il sapere che tu sei significa forse che tu non sei se quel senso dell'io sono non è presente tu l'assoluto sei è così che tu prevali prima durante e dopo lo stato di veglia durante lo stato di veglia il tuo senso dell'io sono percepisce il mondo è dal punto d'osservazione del tu dell'assoluto che il tuo senso dell'io sono viene testimoniato comprese le sue percezioni visitatore desidero fare qualche cosa di spirituale Maharaj vuoi la conoscenza del sé o no vuoi fare qualcosa di spirituale ma devi essere lì per compiere qualcosa devi conoscere te chi è che compie azioni spirituali io sono e l'artefice quando sei coinvolto nelle azioni quotidiane a casa in strada o in ufficio chi è il fattore comune è il tuo senso dell'io sono questo senso dell'io sono è quello che compie ogni azione immagina che dalla mattina alla sera io sia stato impegnato a fare molte cose qual è la somma di tutte queste attività tutte queste azioni sono accadute nel mio senso dell'essere nel sonno profondo l'io sono è scivolato nell'oblio si è dimenticato di sé a questo punto qual è l'utilità delle cose che sono state fatte l'essere non è uno stato eterno è una fase temporanea uno spettacolo transitorio la coscienza è il prodotto dei cinque elementi e delle loro interazioni ciò che ne risulta è temporaneo e quindi legato al tempo il tuo senso del conoscere e tutto quello che accumuli è sempre successivo al tuo senso dell'essere puoi conoscere qualcosa solo quando il senso del conoscere sa che è il tuo errore si perpetua nel momento in cui cerchi di identificarti con qualcosa nella sfera della coscienza è la tua coscienza che rende il mondo manifesto quando cerchi di equiparare il tuo corpo a te stesso comincia la caduta visitatore chi è che pensa che io sono la coscienza Maharaj tu senza l'essere non c'è pensiero l'essere è la condizione fondamentale affinché il pensare o il non pensare possano accadere immagina di avere un dolore nel corpo chi è che testimonia quel dolore è solo il tuo essere in assenza del senso di essere come può esserci la testimonianza ogni corpo che si manifesta è destinato a scomparire similmente l'essere che si è manifestato dovrà scomparire il vero testimone è solamente il sé eterno fino a quando l'essere sarà presente tu sei l'essere quando l'essere non è più tu sei l'assoluto l'essere 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 l'essere